Padre Pio è un santo, è vero che qua c'è stato un monaco santo che devo sapere fare. Padre Pio, un po' per sé, un po' su sé, un po' per prendere in giro il padre Paolino, dice, è più santo di tutti, è il padre guardiano, chiama il padre Paolino. Il padre Paolino scende alla porta, capisce lo scherzo di padre Pio, dà qualche risposta e poi va al refettore, dice, più ci, ma hai fatto lo scherzo. Eh, padre guardiano, e chi gli hai risposto? Eh, chi gli dovevo rispondere? Ho detto, chi ti sape, ti rape. Ma la cosa è che effettivamente hanno scoperto che uno dei parenti aveva rubato questa arma, poi li sono tornati a ringraziare il padre Piero Vettorio. Eh, che bello profeta che teniamo! Ci sapeva ridere proprio perché capite esattamente questo dono, da dove venisse. Padre Luciano, grazie, io penso abbiamo fatto anche un po' di verità questa mattina, è davvero...